tu con le tue domande hai tirato fuori la vastità che non era contenuta neanche nel mio curriculum che il lavoro con te carina mi ha fatto emergere mi ha portato in luce tutto quello che ho fatto anche qualche cosa di cui non mi ricordavo perché pensavo magari con le mie convinzioni limitanti che non fosse da curriculum in maniera pratica nel tuo lavoro che cosa è cambiato a definire già il tempo specifico sono 30 minuti sono 45 è un'ora quello è il tempo che dedico a una mia cliente definire un valore economico a monte ho completamente variato i miei prezzi portandoli al livello di ciò che io sono in grado con tutta me stessa di donare oggi ma di cui io sono consapevole è stato fondamentale tu hai proprio messo ordine in questo mio armadio interiore mi hai aperta e messa è messo in ordine hai lavorato tantissimo su quelle che sono state per me domande efficaci mi hai fatta rendere conto di quello che già facevo e questo è fondamentale senza andare in cerca di altro anche durante le tavole rotonde non solo durante il percorso di 151 nell'analisi di quello che io ero già che potevo già fare con tutto ciò che avevo perché sono sempre molto entusiasta entusiastica e quindi invece di andare a fare 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 tutto quello che avevo era anche oltre a mo no anche molto oltre cari quello che potevo già dare performando io al meglio il mio tempo io mi sono riorganizzata le ore di coaching carina abbiamo lavorato nel percorso coaching one to one quando io ero in 5 6 7 mesi di gravidanza per riuscire ad essere incisiva già nel lavoro che stavo portando avanti questo